volantino nuovo si ringrazia la gentile clientela per aver messo like a questo video il volantino è di top le offerte sono valide dal 30 giugno all 8 luglio 2021 condividi questo video con chi fa la spesa da top grazie per la visione buona giornata per la visione 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 iscriviti subito e con la campanella sarei sempre aggiornato sui nuovi volantini per la visione